Ciao a tutti, sono il maestro Fili d'Alessandro Santagati e in questo video ho il piacere di analizzare una partita inviataci da Mario Spadaro, partita storica giocata nel 1970 nei quarti di finale del campione italiano giocato a Bari, dove Mario Spadaro era opposto al maestro Pierluigi Passerotti, abbiamo addirittura il formulare originale che vi mostro, davvero molto interessante con le firme del tempo, adesso andiamo alla partita, una partita davvero molto interessante, con delle mosse davvero inaspettate che in qualche modo fanno si che la partita sia davvero di grandissimo interesse, andiamo dalla partita, il bianco era Mario Spadaro che gioca D4, cavallo F6, C4, a questo punto G6, cavallo C3, alfiere G7, E4, ora sostanzialmente ci troviamo in un'est indiana, dove il bianco ha sicuramente qui varie opzioni, cavallo F3, alfiere G7, e tantissime altre, diciamo una partita che prende davvero tantissime possibilità, e qui, comunque ho mostrato il nero per il momento D6, il bianco gioca una delle varianti più aggressivi in assoluto, gioca F4, la variante dei quattro pedoni, davvero una variante molto molto interessante che crea qualche problema, perché il bianco ha davvero un ottimo centro, e la strategia migliore del nero è quella di contrastare questa attività tramite la spinta C5. Ad oggi C5 non è considerata la mossa migliore nell'immediato, anche se in realtà poi cambia poco sostanzialmente, di solito il nero preferisce aroccare, ed eventualmente dopo cavallo F3 giocare C5, anche se effettivamente spesso, rinno alla nostra posizione, perché dopo C5, D5, è arocco, diciamo sostanzialmente, la posizione si potrebbe ripetere, senza grossi problemi sostanzialmente. La differenza che se la facciamo subito, è che magari diamo il bianco la possibilità di giocare alfile D3, ed eventualmente di sviluppare anche il cavallo di N2, però non è una cosa gravissima, dunque sostanzialmente entrambe le possibilità possono essere giocate. Qui passa il rotto e gioca subito C5, a questo punto il bianco gioca D5, chiudendo diciamo il centro, e il nero gioca E6. E se è una buona possibilità in queste posizioni, una alternativa era giocare primo a rocco, che andava comunque bene, altre volte qui il nero può anche giocare con l'idea di giocare per esempio A6, con il piano di rompere poi su B5, che potrebbe essere un'altra idea che il nero può sfruttare in queste posizioni. Andiamo sulla partita, E6, cavallo F3, E per D5, C per D5. La struttura che otteniamo è una struttura tipica della Benoni sostanzialmente, dunque eravamo partiti più che altro come un'est indiana, per poi arrivare con questa struttura tipica della Benoni, con i pedoni nel nero C5, D6 e il bianco D5, E4, F4. Il nero gioca rocco, e qui il filo 2 va bene, altra opzione da considerare alfiere D3, a cui il nero può rispondere con B5. Mossa interessante B5 perché in caso in cui il bianco prende gli alfiere, può arrivare cavallo per E4, cavallo per E4, donna E5 e dopo che entro il cavallo C3 posso prendere e poi anche prendere l'alfiere, dunque non è il massimo, può anche prendere, sì, senza problemi l'alfiere. Se invece il bianco prende di cavallo, allora arriverebbe T8 e poi il pedone E4, alla fine il nero lo riesce a riprendere perché dopo cavallo C3, cavallo per E4, arriva F5 e il nero con cui ottiene una buona posizione. Questo a livello di conoscenza per sapere che l'alfiere 2 è un'ottima mostra, però era anche possibile l'alfiere D3, a cui il nero doveva rispondere con B5. Ora a questo punto, dopo l'alfiere D2, il nero giocatore 8, logica perché il nero punta a creare versione su E4 e il bianco difende con donna C2. Ora donna C2 in realtà non è la mossa migliore, è citata sostanzialmente dalla mossa della terapertura, però ad oggi è una mossa che viene di tutto inferiore, perché su donna C2 il nero è un ottimo seguito con cavallo per E4. A cui il bianco deve riprendere e dopo l'alfiere F5 il nero sta meglio, perché diventa difficile difendere questo cavallo, dovrebbe giocare cavallo F2, però dopo donna C7 il pezzo cade perché deve difendere ancora con un alfiere D3 e qui ho due alfiere per, alfiere per, F5 e riprendi il pezzo con gli interessi perché adesso il nero ha un'ottima attività, diciamo, il bianco abbastanza passivo. Dunque, donna C2 è un errore, perché c'è cavallo per E4 da mossa da punto esclamativo. In queste posizioni, anziché giocare donna C2, abbiamo due possibilità, una volta aggressiva che è la spinta E5, l'altra un po' più difensiva che è il cavallo D2, che è una nostra buona perché da un lato difendiamo il pedone, ma dall'altro questo cavallo in futuro può essere utile prendere in C4, spesso dopo chiaramente A4, con cui blocchiamo B5 e poi possiamo portare il cavallo, diciamo, su C4. Mostra davvero molto interessante. No, probabilmente se dovessi scegliere, se non conosco molto bene la linea D5, che è molto aggressiva, cavallo D2 sarebbe un'ultima alternativa da bianco. Dunque donna C2, per fortuna passerotti non si rende conto dell'errore, dunque gioca donna E7, puntando a creare pressione. Anche sai che donna E7 è una boss molto interessante perché crea una fortissima pressione su su E4, dunque se per esempio il bianco decide adesso di difendere con cavallo D2, allora arriva anche alfiere G4, il bianco ha sicuramente problemi. Dopo, non so, alfiere F3, cavallo D7, il problema di E4 è un problema molto importante, difficile da gestire. Se ero alfiere per, il bianco deve assolutamente prendere di pedone per non perdere il pedone in E4. E il nero sta un po' meglio, diciamo, cavallo H5 e il nero ha sicuramente un buon attacco. Due, qui il bianco deve stare molto attento su donna E7, giocare però la migliore E5, qui il bianco deve per forza giocare in maniera aggressiva se non vuole stare peggio, dunque E5 è la soluzione migliore. Nero gioca D per E5, F per E5, cavallo G4. Il pedone E5 è attaccato tantissime volte, E4, dunque sostanzialmente indifendibile. Dunque, unica soluzione per il bianco è dare questo pedone secondo me per indebolire la posizione del nero con E6 subito, o anche come ha giocato qui il bianco alfiere G5, seguita poi da mosse che puntano anche al sacrificio su donna C7. Ancora, qui il bianco è giocato D6, forse un po' più precisa, è E6, perché dopo F per C6, immaginiamo anche adesso D6, se donna per D6, a quel punto arriva donna 4, e già l'attacco si fa importante perché crea un doppio attacco sul cavallettore, dunque già ci sono delle minacce davvero molto interessanti. Dunque, E6 a mosse mi ispira un po' di più, perché crea un problema sulla coordinazione dei pezzi neri, dunque effettivamente risulta difficile difendersi dopo la spinta E6. Probabilmente dopo F per E6, io ho donna 4 immediata, è una possibilità però da un forte attacco al nero, perché dopo alfiere D7, donna per G4 e per D5, è vero che il bianco è un pezzo in più, però è anche vero che c'è l'alfiere al centro, cioè c'è il centro con l'alfiere inchiodato, la donna in G4 sotto attacco, dunque forse il bianco sta un po' meglio, però effettivamente è una posizia molto difficile da gestire. Un esempio potrebbe essere donna G3, proponendo il cambio delle donne. Qui il nero potrebbe cercare di... Tanto donna G5 non mi convince molto perché il bianco si può roccare e può cedere anche il pedone senza problemi, perché è vero che adesso il nero ha tre pedoni per il pezzo, però anche quello che dopo donna D6, il nero ha anche problemi legati al suo re, dato che su colonna aperta, e dunque quel bianco assicuramente ha una posizione vincente. Sì, era un'idea questa di donna 4 subito, dunque E6 e dopo F per, anche donna 4 subito è interessante diciamo, o donna 4 o D6, dove però su D6 il nero non può prendere il pedone ma deve giocare magari donna C6, a cui potrebbe seguire Fb5, no Fb5 non perché c'è il fiere per C3 e perdiamo materiale. Dunque su donna C6 non possiamo subito sfruttare questo tema, probabilmente prima H3, così che togliamo via il cavallo, e se il cavallo va via, non so, su E5, allora via Rocco, e poi, forse è meglio Rocco lungo così difendi il pedone, e poi minaccio sempre Fb5, c'è un tante minacce, se è A6 per difendersi, allora cavallo per, Fb5, e a questo punto anche Fb3, con la semplice idea di creare pressione sulla Rocco forte del nero, che è molto debole. Dunque questa è una buona posizione per il bianco, dove E6 è un po' più forte, diciamo, rispetto alla mossa D6, dunque D6 possiamo considerare un errore da parte del bianco, donna 5, il nero punta a mantenere i pezzi attivi, e a questo punto ha Rocco forte, mossa abbastanza logica, e oggi è il momento di, mentre assicurirei dall'altro anche di portare questa torre sulla colonna F, dove può creare pressione. Qui il nero commette un errore con cavallo per E5, era più forte qui sviluppare i primi pezzi con cavallo C6, e se eventualmente H3, attaccando il cavallo, ora cavallo G per E5 sarebbe stata forte. Giocando cavallo per E5 subito, il bianco può giocare subito cavallo per E5, e dopo alfiere per, alfiere C4, e l'attacco su F7 gli è davvero molto molto forte. Se è alfiere E6, allora posso anche prendere subito volendo, torre per, e gli dobbiamo calcolare il servificio torre per F7. Corre per è forzata, torre F1, e a questo punto il re deve andare via. Se va su G7, c'è donna B3 con doppio attacco molto forte. Se attacco sulla torre e sul potone B7, che già ha dal bianco un'ottima posizione, è difficilissima di difendere questa situazione adesso. Se per esempio, non so, cavallo D7, no, ok, mangio la torre e basta, è una mostra che non si può fare, non so, se torre F6, provando a dare la qualità, io lo ignoro, faccio donna per B7, e mangio sostanzialmente tutto qui. Sì, dunque questa è una idea molto carina, diciamo, torre per F7, dunque alfiere C4 era molto forte. Dunque su cavallo per E5, il seguo migliore era cavallo per, seguito da alfiere C4. Tuttavia, qui il bianco ha giocato cavallo D5, che non è perdente, però cavallo per E5 dà vantaggio al bianco, mentre così la posizione è sul pari, e a questo punto alfiere F5. La donna è sotto attacco, deve espostarsi, B3 è un'ottima casa, anche perché attacchiamo B7, C4, donna per B7, giustamente, e a questo punto cavallo C6. Qui il bianco comette un altro errore, ancora una volta cavallo per E5 andava bene, perché dopo, per esempio, cavallo per, cavallo E7 andava a indebolire molto la posizione del nero, dopo Rh8, cavallo per F5, G per F5. Non ho motivo di rendere il pedone, perché è un pedone che vale poco, mi darebbe solo dei problemi, probabilmente, però posso semplicemente giocare Tore a D1, supportando il mio pedone passato. E qui il bianco, ancora una volta una buona posizione, coppia di alfieri, posizione aperta, sicuramente ha un chiaro vantaggio in questa posizione. Tuttavia, non ha giocato cavallo per E5, ma cavallo F6, che presenta dei problemi, infatti dopo alfiere per, alfiere per, la donna risulta mal posizionata, e questo è un tema importante, infatti Tore a B8 è buona, donna C7, donna C5, scacco, re H1. E a questo punto, il nero ha la possibilità di vincere, giocando Tc8. Perché Tc8? Perché la donna attaccata deve andare su B7, per forza, e dopo cavallo D7, il nero attacca l'alfiere, se l'alfiere va via, non so, ipotizziamo per il momento C3. Allora, a quel punto arriva Tb8, e la donna, diciamo, viene intrappolata. E questo è un problema della posizione, cioè che la donna può essere intrappolata, e il nero può sfruttare questo tema. In questa posizione il nero però ha avuto un po' di fretta, vuole intrappolare la donna subito, con Tc8, non vedendo una brillantissima ossa del bianco, che ha giocato cavallo per E5, che salva la partita, e dà una grandissima attività adesso al bianco. Dunque, bellissimo sacrificio di regina. Per evitarlo, come dicevo prima, doveva giocare Tb8 e giocare la mossa chiave cavallo D7. Dunque, evitare il cambio su E5, e poi giocare con la strategia di intrappolare la donna. E così il nero avrebbe vinto. Tuttavia, dopo l'immediata Tc8, arriva cavallo per E5, il nero deve prendere la donna, D per C7, e qui era importante per il nero giocare Tc8, con posizione secondo me pari, dopo Tc1, il nero magari può prendere in E5. Il problema è che dopo Tc8, minaccio la Tc8 che è in presa, chiaramente se mangio il pedone cemato, mangiando in E8, se mangio cemato lo stas, dunque unica credo sia Pt8, e dopo Txf5. Gxf5 non funziona per via di alfiere per E5, e il bianco è in vantaggio, perché c'è sempre la minaccia C8 donna, il nero è bloccato, non ha praticamente mosse, e il nero qui sostanzialmente va a perdere. Davvero molto interessante, il nero ha l'anno in più, però non è sufficiente. Dopo Tf5 invece, a questo punto, il nero può pareggiare, mangiando C7. Elimina il pedone, dopo Txf5, il bianco effettivamente sembra messo bene per via dei due alfiere e la torre, però donna B6 è forte per il nero, attaccando l'alfiere. L'alfiere deve andare via, e le case disponibili sarebbero scherchi in E7, tra cui seguirebbe Rg7 e poi il bianco ha problemi, perché c'è B2 sotto attacco e i pezzi non sono legati tra di loro, dunque donna il nero alla fine riesce ad avere contro attacco. Se invece su donna B6 il bianco gioca alfiere G5, che è la migliore, F6 non funziona per via di alfiere H6, dopo F7 alfiere per C4 il bianco va a vincere, tuttavia il nero giocare G7, permettendo da un lato di evitare l'alfiere H6 e dall'altro attacca B2, dunque deve difendersi con l'alfiere C1, dopo C3, se B per C3 arriva donna B1 e il nero vince, perché l'alfiere è perso, se B3, allora a quel punto donna D4 la torre deve andare in E3, per difendersi, dopo C2, l'alfiere D3, donna A1, torre A1 forzata per difendersi e dopo donna per A2, mi sento la posizione che definisco pari, perché è vero che il nero è un po' di attira con la donna, però il bianco ha sempre due alfieri e torre che possono difendere tutto, dunque dopo l'alfiere C4 blocco tutto e questa posizione è sostanzialmente pari, torniamo indietro, dunque tematica molto interessante, tuttavia il nero non ha giocato Torre 8, ma ha giocato Torre C8, che risulta una mossa perdente, anche se il bianco non è riuscito a sfruttarla, quindi il bianco dovrà giocare, Torre AD1, davvero mossa fortissima, che porta la torre con la minaccia D8, la minaccia cavallo per C6 eseguita dalla torre D8, che risulta davvero difficile da bloccare, non so se giocasse cavallo D4 per chiudere la colonna, la torre potrebbe giocare tranquillamente un sacrificio molto brillante come cavallo per F7, e se repè l'alfiere per D4, se per esempio donna per C7, allora G4, e vado in vantaggio di materiale, prendo l'alfiere, due torri e due alfieri contro donna e torri, il bianco sta meglio. Dunque, però partita incredibile, con vari cavalli uniti di scena, qui dopo Torre C8 addirittura adesso il bianco che può giocare per vincere, tuttavia il bianco giocare allo per C6 semplifica troppo, donna per, alfiere D8, semplificando troppo qui si va più che altro sul pari, alfiere E6, torre C1, qui il bianco gioca un'ottima avanza, alfiere per C4 è forte, perché se alfiere per C4 arriva tranquillamente l'attacco con B3, alfiere inchiodato, qui nella giocadonna B7, torre F2, era un po' più forte alfiere per E6, F per, e a questo punto la mossa, B3, il bianco sta fermo, e sta un po' meglio perché il nero non ha controgioco e è del nero che deve giocare per pareggiare, dunque questa è un'idea, anche perché con alfiere per E6 il grosso vantaggio del bianco, e comunque sia con la torri in F1 tagliava anche fuori dei re, dunque sostanzialmente il controgioco del nero era sostanzialmente nullo. Dopo torre F2, alfiere per, torre per, qui credo i giocatori si accordano per la vatta, ed effettivamente non c'è molto che può fare nel bianco del nero, chi ha una posizione sicuramente, sicuramente pari. L'alfiere in D8 un lock alla torre del nero, le due torri possono bloccare tranquillamente la donna, dunque sostanzialmente possiamo definire una posizione pari. Una partita però molto interessante, con varie idee molto belle come la donna intrappolata, la possibilità comunque sia di dare la donna per un controgioco molto forte che ha avuto il bianco, dunque idee molto interessanti che rendono questa partita davvero di buon livello, e sono stato molto contento di analizzarla. Se avete delle domande scrivetevi sotto nei commenti, e se avete partito interessanti mandateci, cercheremo di commentarle il mese prossimo. Grazie alla prossima! Ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video. Grazie! Grazie!